Arrestato il presunto killer di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, polizie e carabinieri hanno fermato a Trinitapoli Giuseppe Rendina, che secondo le indagini sarebbe il colpevole del duplice omicidio di padre e figlio, rispettivamente di 58 e 27 anni, i cui cadaveri sono stati ritrovati domenica mattina in un terreno agricolo nelle campagne di Zapponeta, in agro di Manfredonia. Le due vittime sono state giustiziate con un colpo di pistola alla nuca e i loro corpi avvolti in sacchi di plastica e nascosti sotto un cumulo di tubicini per l'irrigazione. Al momento gli inquirenti non lasciano trapelare alcun ulteriore particolare investigativo. L'arresto è arrivato qualche ora dopo l'appello del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, al sottosegretario del Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, a cui aveva chiesto di elevare a struttura di primo livello il commissariato della sua città. Stando ai primi accertamenti investigativi, il movente dell'omicidio di padre e figlio sarebbe un debito, a quanto pare, di una cifra leggermente superiore a 10.000 euro. Il presunto omicida, 45 anni, bracciante agricolo con precedenti per droga, si è dichiarato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida del fermo. Riguardo il presunto movente non è chiaro ancora se le due vittime fossero debitrici o creditrici.